da male in peggio da male in peggio partiamo da un po di tempo fa quando c'era conte grande conte tutto il bordello che c'era in quel periodo bill gates chiama bill gates e via tutti in farmacia o nei punti di per le inoculazioni adesso c'è la meloni un po' esagerata meloni melucce c'è la meloni bill gates non ha chiamato e la donna si fa vedere c'è andato è arrivato bill gates e la meloni spara un miliardo per un miliardo di euro dispone un miliardo di euro per l'intelligenza artificiale cambiano le regole vi ricordate premetto vi ricordate quando le iene fecero davanti quei tamponi per vedere se i nostri ministri e se i nostri politici si drogavano esattamente beh si drogavano chi con la cocaina chi si faceva le canne però adesso hanno detto che se tu ti fai una canna non puoi guidare né la bicicletta elettrica né il monopattino elettrico né niente non serve che stai bene non deve stare in circolo cioè ancora più restrittiva la cosa non mi interessa mi potete fermare quando volete farmi il tampone quando volete quindi arrivederci e grazie non è questo il problema il problema è la mancata coerenza la mancata logicità che c'è in quello che fanno i nostri politici voi siete persone che ci state derubando voi il vostro stipendio lo state derubando perché non potete fare più nulla se non chiedete all'europa tranne truffarci con il bollo auto che fuori legge con il canone rai che fuori legge questo lo potete fare questo lo potete fare vi potete drogare però gli altri devono pagare prendere multe rischiare di rovinare una famiglia una persona per un vostro tornaconto siamo arrivati a livelli di ridicolicità allucinante proprio allucinante allucinante oramai la politica in italia vabbè io non voto da quando c'era avevamo il presidente operaio ve lo ricordate beh certo era l'operaio della mafia da portare i soldi alla mafia faceva l'operaio quindi il presidente europeo e dalla parte aveva ragione quando è che è incominciato a aprire come 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 che dice silver neruti grandissima grandissima che è una grandissima modalità di espressione quel silver neruti e davvero spiega le cose ma ve lo devo scrivere o lo avete capito cioè davvero siete così aggrappati un sistema corrotto che non funziona non funzionerà mai anzi potrà solo peggiorare da non capire cioè ma lo vedete che c'è qualcosa che non va non però nessuno fa nulla tutte spallucce continuate le spallucce io ho tanta paura non per me io sono un tra virgolette tante virgolette un intoccabile nel senso vista l'età che mi divertirò a vedere qualche pagliaccio che fa una brutta fine ma vista l'età e vista la mia posizione non me ne frega niente non me ne frega assolutamente niente ma i miei figli i vostri figli questa è tutta colpa vostra se i vostri figli saranno male non avranno saranno schiavi di una società perché poi ma vabbè comunque accendete il cervello perché i penosi siete voi che non fate nulla perché se io trovassi delle persone che se gli dico sbattete la testa al muro e quelli lo fanno ma sbattetela più forte santo dio voi siete quelli che state sbattendo la testa al muro usate lo sto cervello solo per dividere le orecchie brutto capito è come mettere un grande computer su un bel mobile e poi tenerlo spendo perché devi solo farlo vedere non sai cosa cazzo farci è la stessa cosa è la stessa cosa lasciate perdere la televisione lasciate perdere sti cazzo di telefoni lasciate perdere la tecnologia distaccatevi da questa perché perché vi ci stanno queste sono saranno le vostre manette in bocca al lupo ragazzi a chi non l'ha capito in bocca al lupo